salve a tutti ben ritrovati situazione complicata molto complicata ancora non ho trovato una soluzione aspettate perché passo da cluster 3 alle titai e quindi devo un po' riregolare le cuffie perché l'audio delle titai è molto più alto non cambiando il settaggio della mia gestazione devo io abbassare le cuffie se no non riesco a sentire neanche la mia voce allora non so non so come fare non ho riflettuto abbastanza mi sono portato un sacco di di roba purtroppo solo una di queste qua però vediamo vediamo un po' sono nudo perché non voglio consumare l'armatura prima del boss me la voglio tenere per il boss perché non ci vuole arrivare che l'armatura è un po' deteriorata perché ho preso a calci in culo da chi ho incontrato nel frattempo allora la cosa brutta è che se incontrerò i miei bot dovrò picchiarli e riprendermeli vediamo cosa riusciamo a fare io se vado a affrontare il boss di qua molto probabilmente scusate molto probabilmente dovrò tagliare perché è troppo lunga troppo veramente troppo lunga la cosa se vado ad affrontare l'altro forse l'altro è più facile allora io mi sono preso questi qua così ritorno alla sala attesa non voglio morire non proprio non c'ho nessuna intenzione di morirci anche se costa un fottio in questo caso può esserci comodo proveremo l'altro magari nel prossimo episodio cioè mi voglio re avvicinare al massimo mi avvicino prima della boss fight poi mi metto col sacca a pelo con il nascosto con la tenda mimetica e poi ci provo off screen nel senso io ve lo faccio anche vedere però ci vuole un anno porca miseria cioè non va giù quel boss non va giù peggio di Johnny vediamo un po' cosa possiamo fare intanto noi andiamo avanti intanto noi ci stiamo e cerchiamo di andare avanti allora se lui mi ha visto lo agriamo lo agrid vieni agrid vediamo un po' ah gli HP comunque 3.180 3.180 cioè rispetto al difensore non vede tutta sta gran differenza cioè alla fine alla fine tristemente non vorrei constatare che quello con la borsa fosca più ampia sia il bot migliore perché l'altro ha solo 1000 HP capirai in shotta di red in shotta di red no questo mi sta su le scatole che ha quel cacchio di ok no voglio controllare se non arriva nessuno alle spalle lui però non recupera vita picchiando quindi quindi dovremmo farsi adeguato vabbè c'ho 3.180 perchè c'ho il costo dei 20% dei punti quindi ok però non sono stato stupido ho preso una di queste qui non mi da passare attraverso il muro perché ne ho solo una ah eh prendiamolo un po' parcomo ok ce la riprendiamo vieni andiamo una è un po' poche ma non avevo tempo per andare a prendermene altre purtroppo purtroppo no qua non registro mai sono anche già già che vado un po' a rilento negli episodi nelle registrazioni cioè c'è chi fa live e registra tutti i giorni poca miseria mamma mia mi piacerebbe anche a me dai ma cosa ha dammi la tua arma a me non uso le armi se vi cadono le armi uso le vostre ragazzi non le mie quelle me le hanno sentono tutte per i boss mamma mia ok perfetto che mi dai vabbè solo di nero non tengo di nero ok vabbè ok non tengo di nero andiamo un po' qua ok bene facciamo così la cosa c'è ah questo adesso ce lo mangiamo poi l'azzardo dov'è lo bruciamo avevo visto il fuoco eccolo che se quanto azzardo ci dà non lo si sa vai avvelenami ok ma così siamo avvelenati nel caso ci sia nessuno ok perfetto ah qua si scende blu non ci interessa sì perché guardate io ho preso questi qua perché non voglio starci un'ora al massimo la prossima volta mi preparo per il boss ah qua si ritorna in discusa dietro dobbiamo un po' dall'altra parte se si va da quel cac tra parte dall'altra parte qua si ah qua c'è la gente simpatica ok ok mettiamo così mettiamo lì per terra la nostra cura costante ok troppi oh oh meno male meno lo usiamo ok questo è l'attacco sì tu stai lì chi c'è qua ah vieni vieni bello vieni ok questo è l'attacco migliore quello spazzata cioè finché il nemico è unico non so che faccia più danno l'altra ecco perfetto già rotta la durò o niente la durò fu zero qua monete qua lo mettiamo perché tanto la roba che troviamo qua la utilizziamo se si dopo lo recupero la questa la bella dovrei porca miseria non sono riuscito a schivarlo vabbè adesso ti attacco al muro ti attacco al muro come si usa dire oh e vabbè non sei pericoloso però 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 bisogna prenderla anche seriamente ecco ma tanto non mi interessa perché non ho armatura a parte quel casco stupio sì 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 guarda facciamo che ti resistete più ok basta non gli pieni ad un infarto però ok adesso dai su riavelenati che la ricupero bella bella boccata bella respirata ok e andiamo ecco l'unica cosa che mi preoccupa è che ne ho solo una di quelle no buono che cazzo è chi l'ho fatta a bruciarmi ma vai su andate a quel paese ok assasori 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 va va che ti mangio assasori guida le bombe stiamo attenti ai dinamite questo non fa un cacchio di danno ok qua invece dove si va viola ok ci proviamo viola bacia tutti eh ci proviamo con lui con l'altro tipo vediamo cosa ne esce fuori vediamo dai 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 nella speranza nella speranza bevo un goccetto di succo di frutta alla faccia vostra ok vediamo un po' sci me meno che mi mena adesso qua dovrebbe esserci il mio bot che mi dà tante botte no perché tanto mi costano teschi arcobaleno me li chiamo io monete teschio vediamo un po' come è la situazione qua ecco dai spiaggia bitch chi è? ah sono io oh che bello vedermi da fuori che dobbiamo fare? sono costata appicchiarti sei nabba quasi quanto me sei me che bello vedere se il Jensen è scritto lì vabbè ok no picchio me stesso picchio me stesso poverina sì dai riprenderla riportala a casa riportala a casa la poverina ok prendiamola prendiamo la mia spada lacrimucce ok e quindi quella l'abbiamo recuperata credo che ci sia solo lei lì sì allora io direi di di far così c'ho sempre paura quando quando rimbalza perché mi vuol finire nell'altra parte del muro ecco quanto ti odio questi li odio questi veramente li odio perché fanno male boia ah guarda 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 che roba se no tanto io sono nudo mi posso curare quindi non ho per le scatole ok sì vabbè no prima prima facciamo così adesso ce lo mangiamo e a te ti prendiamo sto sempre attento perché non vorrei mangiarla sbaglio tasto e premo la friccetta in su e poi si che a questo punto mi spara in faccia e vediamo un po' qua c'è nessuno ma grazie a dio oh surprise bello ci faccio niente ok ok qua niente trappola oh tu 15 colpi ok al posto di questo forse trovo il fuoco ti cucino per bene tu ti mangio ok ok e qua no ok c'è gente c'è gente quindi ecco non mi rimbalzare dall'altra parte veramente che se no se no mi impicco oh dove ci vuole vai che succede mi picchiate da soli chi c'è un hater c'è un hater dai oh adesso guarda fa una cosa usa quell'arma dannata oh così bravo 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 ancora dai insieme vai no no veni più avanti è lontano ecco così bravo aio però fa male oh 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 te sei rotta e adesso adesso che te sei rotta come la mettiamo adesso cosa adesso aspetta che mi avveleno gentilmente dottore ecco che ho la medicina ok ok cos'è questo prendiamolo va adesso li cucino questi questi funghetti anche se è un azzardo non mi devo dimenticare la pozione oh un altro di quelli bello 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 dai su muorici dai un altro ramar sembra più un drago di komodo anche se non lo visti mai da vivo mamma mia che palla un altro di quelli dai dai su dai su che noia dai su non potevate mettere il boss subito no no avevamo fatto tutta sta trafila ok adesso dove è l'azzardo ce lo maniamo sta fermo che te prendo e te cucino si ok dov'è ok andiamo a prendere la lumachina la lumachina ah giusto posto d'azzardo per forza dov'è 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 azzardo non lo vedo non lo vedo eccolo ok andiamo vabbè tu stai lì ti lasciamo lì questi li lasciamo lì questo no ok bene non è di qua non è di qua quindi ce la dobbiamo far tutta all'altra parte mi dispiace che sfiga però che pizza allora di qua si vai 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 lucian guarda che cos'era sto rumore mi ha preso un colpo guarda che se riusciamo a superare il posto con lucian da adesso in poi prenderò solo quelli con la borsa foscampia non è che sola di qua no si veramente cioè non c'è quello che è nella build quality doveva far un danno pazzesco che palle che palle che palle che pizza e dai e muori e muori che ti ripino le castagne oh facciamo questo va ma che ti mangio non posso se c'è niente lì no ok eh si tenute che ti incazzi no meno male a meno ti crepi subito dai oh 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 che è che è ho slittato c'è una buccia di banana per terra che cos'è ecco uff allora lui ah che lo che lo che lo eh lo che lo che lo che lo che lo che fine fa oh ecco e non ci ho preso e non ci ho preso questi col casco di lord vader vieni qua che sotturi come il piombo come dai pugni a una lastra di piombo vieni qua ok 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 diciamo non farci beccare no bello bella cosa bella cosa ok eh questo che cos'è azzardo dai trasfermoci la rana lanificazione andiamo la rana riesce vediamo un po' si avvelena la rana si si avvelena la rana chiaro chiaro dai ok riprendiamo sotto ok perfetto andiamo quella non c'ho intenzione di combattere qualcuno andiamo a vederti qua se c'è quella è la trappola si dovrebbe essere qui due rompiscatole robot robotoni robottini quindi non ricordo se era prima o dopo kamatek forse cioè nel senso forse è di qua si è di qua ok bene ma è la stronzona ma che fa se li scambiano no aspettate un attimo ma era su hoshimi la stronzona io ho pensato ad incontrare lui se li scambiano se scambiano i piani non ci ho fatto caso al nome che pezzi di merda uuuu allora ci proviamo se non ce la faccio non mi ucciderò ma me ne tornerò alla sala d'attesa allora vediamo cosa si può fare aspettiamo le armi allora questa 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 abbiamo queste siamo pieni si forse metto 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 eh da entrambe questa c'è più livello 3 anche se vediamo un po' vediamo un po' cosa siamo messi proviamo con questo con questa qua mettiamo questo e questo poi questi per la forza tanto possiamo continuare quindi prima facciamo questi ok allora io adesso gli resisto un po' poi farò nel caso taglio se ci vuole troppo quindi poi magari rimetterò la fine oppure vi farò vedere un po' come un'altra volta beh speriamo bene andiamo un po' ecco e te parea quanto mi stai su perché ha poi quel cacchio ecco questi attacchi inseguitori che quindi io la devo costringere eh invece quando fa quelli che esplodono mi metto un po' più lontano quindi la posso attaccare solo quando fa quell'attacco lì il problema il problema è che ecco dovrei mangiare quando vedo quando capisco che sta per fare quell'attacco lì che lo fa vedere quella quella nebbiolina rossa allora mangio uno di quei funghi poi vado ad attaccarla capito però il tempismo non è uno dei migliori vabbè io adesso taglio perché tanto questa prima che fa quell'attacco lì ci metterà 15 anni ok tagliamo vediamo che appunto quando riprenderò come sarà la situazione ok ci vediamo tra poco questo devo stare più lontano ci vediamo tra poco eccomi ragazzi eh per voi è passato buissimo niente non nulla per me per me è passati 10 minuti buoni cioè guardate è cambiato un upse perché guardate la vita dove l'avevo portata adesso si nasconde là sopra cioè come faccio? cioè si sta là sopra come faccio? porca miseria posso usare solo un rallento a tempo porca miseria porca miseria la situazione adesso è critica la situazione adesso è veramente critica eh si che stronza che mi spara lassù ok nooo questo dovevo ecco fanno sbattere nel muro nooo porca miseria troppo vicino ma porca miseria non si schiva quello ecco no 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 quanto sta andando male adesso che ripresa di stress sta andando malissimo sta andando malissimo eh tocca ma già assoluti questi allora non voglio utilizzare a lenta tempo quelli bonus finché ho la possibilità di morire una volta capito quindi farò così quindi ci vediamo tra un po' io continuo questa battaglia mamma mia a dopo cioè per voi passerà niente ok rieccomi ragazzi avete visto la barra e la vita ci siamo quasi solo che sono morto eh sì sono morto ho utilizzato il continuo gratis quindi adesso vogliamo riuscirci a ucciderla con questa vita che mi rimane mamma mia devo dire che il ferroastiro è l'arma migliore per fargli male quindi credo che me l'abbia consigliato Andrea se qui or sono ma spara no questo non si schiva via 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 non voglio utilizzare quegli altri cioè quelli della risuscito ok quando fa questo non si può attaccare dai ok prossimo uh uh ok quando fa questo dai che ce la facciamo usiamo questa usiamo questa e nel caso anche questo ci proviamo eh dai che ce la facciamo mi è messa proprio lì da questa persona guarda che scappa lassù via 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 dai che mi manca poco guardate lo scudo di vita gli rimane alla strozzona dai che ti ho fatto fuori dai guardala guardala guarda che roba che come indetreggia mentre fa quell'attacco guarda l'ha rifattata di seguito e ce l'abbiamo fatta oh campioni nel mondo mamma mia che roba tremenda eh uh cioè non la voglio far più non la voglio far più via 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 andiamo avanti via 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 che finiamo l'episodio che finiamo l'episodio via quindi ci rimane l'altro però non ho utilizzato quell'invicibilità questi qua eh ho utilizzato quelle altre non questo che è più speciale quindi dai adesso andiamo immagino che qua sia un bagno di sangue dopo perché comunque come mi è stato detto mi stiro un po' perché sono un po' rotto piano 27 ecco per forza tocca fare anche l'altro adesso noi qui mettiamo il nostro saccappelo e ci rivediamo alla prossima mamma mia che parto podarico allora andiamo solo controllo le missione sbloccate alla situazione eh qua c'è sì ah là si scende si fa ah quindi potremmo fare il giro credo poi però eh sì eh devo fare anche l'altro boss ok va bene noi noi mettiamo questo ok ci vediamo alla prossima grazie per essere stati con me finalmente ce l'abbiamo fatta ho tagliato perché ci ho messo veramente 20 minuti eh cioè 20 minuti buoni quindi 20 minuti buoni di di parolacce di imprecazioni però alla fine ce l'abbiamo fatta tanto il match non era chissà che cioè veramente noiosissimo l'ho già ripetuto in un altro video non voglio ripetermi di cosa cosa ne penso di questa boss fight quindi andiamo oltre ci vediamo al prossimo episodio sono contentissimo spero anche voi alla prossima ciao ciao